Benvenuti a un certo show Prima di passare alla presentazione dei nostri loft Sigla Avanti Sei verità, eh? Dove volete accomodare Sì Posso andare avanti? Possiamo andare avanti Ok Sì al punto Sì al punto Andiamo su Si mocca Guarda Bastante Il bello di questa trasmissione La Bamba La Bamba La Bamba La Bamba Allora Prima scena di oggi Partiamo con un quiz Quiz Scenica La cosiddetta Sara Bamba Quindi vorremmo ascoltare le musiche Ai nostri tre oscoli E Mosega 8 No Is this the real life? Boom Mi alrap sedentei TrICA 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 Enferno Cazzo! Se stai vivendo un punto, eh? Non vieni mai di Gigi da te, non sei cazzo! Bravissimo! Anche oggi apro gli occhi e mi sento bene Pure se le nuvole le vedo nere Che ti servo il fuoco e il cuore a cherosene Che mi sento più ricco di un petro... Ma questo è il mio aiuto, ragazzi, 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 è il mio aiuto! E adesso ho detto sicuro che mi risponderà già in Italia, perché se non lo so Tengo, 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 tengo Tengo, 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 tengo Tengo, 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 tengo La Soma, la Soma, la Soma Non lo so, non lo so e si arrendono, seconda canzone Stressed Out 21 Pilots Che si senti 21 Pilots? Io! La bamba Puoi ripetere gentilmente? Giordi Verdi, io so Che fretta c'era Maledetta primavera PMP IT La bamba PMP IT La bamba PMP IT Come da b***a, man? Ma hai congresso sicuramente E... Smooth Thin Ok Ragazzi, io che faccio? Io sono lento alla zona della macchina Facciamo un appuntamento? Ragazzi, scelgo dentro Alzato per la... Forza Questa, se non la conoscete, l'alzate per l'entrata Molto bene Si è anticipato, sì Oh, è la prima di cuore! Zitti! Bruno Mars Quale? Quale? Questa è il vino, eh? Basta Si chiama The Lazy Song The Lazy Song Nome Costantino Francesco Miami Cognome Rocco Galore Avonte Classe Quintock Erbe Sezione Erbe Quinta B Chi è il leader della band? Ovviamente io In questo momento? Mariano Non c'è un leader, siamo tutti leader della band Plotwist Professore Chi vorresti come leader della band? Mariano Ensure Professore Plotwist Io Chi è il meno importante della band? Sì Io Io Chi è il più bello Slash A Non mettere un po' di filo al tavolo Faccio una scena finita Come vuoi È un fianco sublista All Star All Star All Star All Star Bello In quanto proprio Bello Il batterista Vincenzo Mariano Dell'ex band Roberta Sottilisa Professore La canzone che hai suonato Controvoglia Controvoglia Impossi No Troppo Diciamo Cascarete Di qualche minuto Ma al finale La band Serve a qualcosa? Allora Serve Più che altro È servita per Socialità Per far socializzare Delle persone E in più Per mettere insieme La nostra passione Però Non ti piupe Ok grazie Personalmente Penso che sia un'esperienza Per tutti Suonare assieme Perché ti migliora Da un punto di vista Armonico Comunque È diverso Suonare Da suonare Tutti insieme È nella speranza Di diventare famosi Un saluto E un augurio Agli studenti Di Luigi Sturzo Ciao ragazzi Perché cazzo Mi siete venuti qua? Chi ve lo fa fare I pari Che cazzo No Ok Ragazzi Vi auguro un buon Fine 2018 Buon Natale a tutti E Ci vediamo l'anno prossimo Ciao Ciao Cosa ne pensi del gruppo di teatro? Poi io ma veramente Mi avete fatto questa domanda Meno male Che sei più meglio No voglio Cioè Che ci stanno a fare? Cioè alla fine Non l'avete dato di te Questo gruppo di teatro Musimo è meglio Ma che sei più meglio No Non sei È inutile Cioè Una scherziamo Che ci stanno a fare? Ciao Perché ci stanno a fare? Che ci stanno a fare? No 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 Grazie a tutti